buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo video vi ricordate che qualche mese fa sempre su questo canale avevo pubblicato un video una corsetta per le viti trapani adesso vi dico il perché ero a trapani ero lì perché ho partecipato al concorso giuseppe di stefano e proprio in quel concorso ho vinto il secondo premio i vincitori del concorso poi dovevano partecipare al concerto di gala sempre in onore di giuseppe di stefano e infatti alla fine di questo video vi farò vedere quello che ho cantato questo video non sarà di tante parole oggi non parlerò moltissimo darò molto spazio alla musica e come sempre vi ricordo di aiutarmi a supportare questo canale lasciando un bellissimo like se volete lasciatemi anche un commento giù ma soprattutto iscrivetevi sarà di molto aiuto grazie ancora e vi lascio a la donna immobile ritorniamo all'edizione 2021 secondo classificato di questa edizione è il tenore giuseppe infantino prego giuseppe 27 anni angeli siciliano vince anche un premio amici della musica per una scrittura di un concerto e canta adesso da rigoletto di giuseppe venti la donna immobile applausi la donna immobile qual piazza il vento la donna immobile la donna immobile qual piazza il vento la donna immobile la donna immobile ma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.